Un lungo inseguimento partito a Barletta e terminato a Trania ha permesso ad uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Barletta di arrestare due andriesi, in particolare Nicola Sgaramella di 32 anni e Felice Lotti di 38, bloccati a bordo di un'autovettura rubata, una Ford Mondeo. Sono riusciti a fuggire invece altri due malviventi a bordo di una Volvo grigia, anche questa oggetto di furto. È stato particolarmente movimentato il pomeriggio di martedì nella BAT proprio tra le città di Barletta e Trania, attorno alle ore 14. Dopo la segnalazione dei due furti di auto, infatti, le vetture sono state intercettate da agenti del commissariato di Barletta su Via Trani, nella zona industriale. I malviventi per sottrarsi alla cattura hanno speronato l'auto delle forze dell'ordine, che nonostante il forte impatto ha continuato nell'azione di inseguimento, terminato in località Boccador a Trani, dove è stata rinvenuta anche la Ford Mondeo e bloccati i due andriesi, che avevano provato a nascondersi in un casolare. All'interno della vettura erano custoditi numerosi attrezzi atti allo scasso, ganci e corde da traino, centraline codificate per autovetture di varie marche e tubolari artigianali idonee a distruggere i sistemi di block shaft. Dopo il sopralluogo è stato constatato che i quattro avevano forzato e tentato di rubare anche una Skoda Octavia ed una Opel Mokka, prontamente restituite ai legittimi proprietari. I due arrestati sono stati ristretti invece presso il carcere di Trani, accusati di tentato furto aggravato, ricettazione e detenzione di arnesi atti allo scasso, danneggiamento aggravato di un'autovettura in servizio di polizia e resistenza pubblico ufficiale. Sono in corso accertamenti per identificare anche le due persone che sono riuscite a fuggire.